Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Clash of Clans. Oggi siamo qua per andare a vedere come va il mio villaggio, dato che ho un po' di tempo che non vi porto un video di Clash qua sul canale. Come vedete ho un sacco di cose da riscuotere, un sacco di cose da fare, ne sono totalmente consapevole, abbiamo anche alcune missioncine molto molto carucce ancora da fare, quindi andiamo subito a donare tutto quello che serve da donare, così almeno ci togliamo lo sbatti e l'abbiamo fatto. Andiamo a fare così, andiamo a donare la macchina d'assedio e via. Vabbè qua abbiamo un sacco di ricompense da riscattare, tra cui il potenziamento addestramento, il potenziamento ricerca e il potenziamento costruttore. Pozioni del lavoro e pozioni addestramento vari che sono ancora da fare, queste quelle faremo poi tranquillamente. Ha detto questo, ha detto questo, andiamo a farci una partitina qua sul secondo villaggio, così almeno ci portiamo avanti con gli attacchi, dato che dobbiamo fare la missioncina giornaliera e via. Andiamo con la macchina da guerra che l'ho portata a livello 10, quindi in teoria ha potenziato anche la sua abilità, sempre in teoria perché ragazzi non conosco bene come funziona i potenziamenti sul secondo villaggio, sono molto sincero con voi su Codesta Cosa. Sicuramente la macchina da guerra è più forte rispetto a prima, questa è l'unica cosa di cui sono certo, questa qua è proprio l'unica cosa di cui sono certo. Ragazzi stanno tornando video qua su YouTube, lo so, l'avete visto, vi porterò sicuramente altri contenuti, stanno anche tornando le live, vi consiglio di andare a vedere sul canale Viola, trovate il link qua sotto in descrizione e su Instagram di andermi a seguire perché lì vi aggiorno sempre su tutto. Sono contento che stia ritornando pian piano qua su questo mondo qua, dato che è quello che poi vorrei portare avanti durante il mio percorso universitario, perché sicuramente non mi occupa troppo tempo ed è una cosa che mi piace molto fare, quindi questa è una cosa che ci tenevo a dirvi. Sì, nell'altro villaggio dobbiamo andare ancora a fare un attacchino qua perché ci sono le guerre tra clan, sono iniziate le leghe tra clan, le leghe delle guerre sono iniziate, quindi andiamo subito a farci il nostro attacchino, andiamo ad attaccare il primo così almeno lo devastiamo come si deve. Non abbiamo tutte queste truppe ma andiamo comunque ad attaccarlo così almeno ci togliamo il problema. Un bel push di qua, poi facciamo una bella congelo qua sui draghi, una furietta qua, di qua pushiamo con campionesse eccetera, usiamo subito la ulti così almeno mi toglie subito le cose più difficili da togliere. E via, adesso guardiamo come riusciamo ad entrare, se riusciamo soprattutto ad entrare perché non è neanche detto che riusciamo ad entrare, ecco. Sicuramente una cosa che conviene fare è mettere una furia e un congelamento subito sull'aquila reale, una bella curetta qua così almeno riesciamo ad andare a prendere quello che è il nostro obiettivo finale. Congelamento sulla torre d'inferno così almeno non perdo quello che dovevo perdere, le due stelle qua le abbiamo fatte proprio easy in teoria. Qua una bella furietta da questa parte e guardiamo cosa riusciamo a portare a casa. Purtroppo ci sono le torre infernali, l'unica cosa che mi preoccupa è quella, torre infernale però multipla, quindi in teoria meno difficile rispetto a una torre infernale singola, fa meno danno sostanzialmente. I draghi infernali al 5 ragazzi sono veramente sostanziosi, fanno veramente molto molto danno, quindi ci daranno una grossa mano nella ricezione delle tre stelle. Guardiamo se riusciamo a farle queste tre stelle, si spera naturalmente. Buono, buono così. Qua sì sono tre stelle proprio tranquille, quindi sono contento che siamo riusciti a fare tre stelle. Buono tre stelle. No, 100%, abbiamo tristellato il primo. Ci prendiamo almeno le tre stelle per il nostro clan. Siamo a dieci stelle, siamo terzi in classifica, quindi pian piano stiamo salendo sicuramente. Andiamo ad addestrare questo esercito qua, perché poi mi servirà per attaccare successivamente. Qua con i costruttori fra nove minuti mi finisce un'altra torre infernale al 5, perché sì, sto facendo le torre infernali al 5. Sto facendo dall'altra parte questi, adesso inizierò poi molto probabilmente a fare gli archi X, mi piacerebbe potenziare, sono molto sincero con voi su questa cosa. E adesso dobbiamo andare un attimo ancora a vedere di qua, abbiamo vinto, no, abbiamo perso, 68% ci ha fatto, unlucky per noi. Dobbiamo tenerci l'Elysir. L'Elysir ci serve da tenere perché dovremmo potenziare il laboratorio, è una cosa sicuramente da potenziare che vorrei potenziare, anche la Megatesla sarà successivamente da potenziare, ma prima di fare ciò, con l'Elysir rimanente, io direi di andare a farci la macchina da guerra all'undici, che non fa mai male, eh guys. Macchina da guerra all'undici non fa mai male, anche se magari teniamo questo oro e lo buttiamo su... forse qua, no, forse conviene far così, almeno ci potenziamo un'app di coso e ci portiamo avanti. Detto questo, detto questo, abbiamo detto altra roba da fare, riscuotere tutte le ricompense che abbiamo qua dentro, che sono comunque abbastanza, sono 13 milioni. Stiamo arrivando a livello del clan, livello 5, quindi sono molto contento di ciò. È entrato anche Dicab, ci siamo tutti, c'è Alex, Siamo tutti on fire, qua sul clan. Adesso mi finirà la torre infernale, poi vediamo bene come organizzarci, magari la gemmiamo, così almeno portiamo anche il content dell'upgrade. Mi piacerebbe potenziarmi gli archi X, però andrei a sprecare per 10 ore o l'altro. Quindi sì, magari ci facciamo gli archi X, che sono gli altri upgrade forti, vorrei portare gli archi X a livello 5, quindi sì, diciamo che un upgrade adesso all'arco X ci sta di brutto. Andiamo a vedere se riesco a fare un altro attacchino così molto rapido, così ci prendiamo anche la stellina dell'altra missioncina che dobbiamo fare. Guardiamo se riesco a trovare qualcuno. Molto, molto goloso questo qua, ragazzi, facciamo così. Doppia mongo, doppia di qua, e poi l'altra parte attacchiamo di qua, doppio, doppio, via. Poi attacchiamo qua sopra e attacchiamo qua sotto. Adesso mettiamo un po' di furiette qua, un accongelamento goloso sulla campionessa prima che mi distrugga tutto, e via. Qua mettiamo furia e cura, quindi almeno ci alimentiamo la vita dei nostri draghetti. questo spacca pietre fa molto male, sono molto sincero con voi su questa cosa, perché è la verità. Siamo riusciti a fare la stellina, abbiamo preso anche abbastanza risorse, 400.000 che non fanno mai male. Qua una bella gelo all'ultimo secondo per salvare il tutto. Let's go! Ci prende un botto di risorse questo, mettiamo la furietta qua, quindi in teoria andiamo a chiudere tranquillamente, e via. GG, ci sta, ci sta, ci sta di brutto. Ho preso un botto di risorse, mi sembra un 400.000 che sono veramente golosi, 400.000 qua da queste 500.000 più bonus, quindi OP. Andiamo ad addestrare questo qua, e via. Siamo sostanzialmente a cavallo, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ho sbloccato anche un'altra ricompensa, il posito stagionale più grande, più pozione forza che non mi serve, quindi la buttiamo via, e ciao. Siamo a posto sostanzialmente. Io spero ragazzi che il video vi sia piaciuto, era un video così per farvi vedere come è finito il mio villaggio di Clash of Clans, cosa stiamo facendo, nel caso voleste vedere altri video di questo tipo, fatemelo sapere, vi porterò dei video notizie, un giorno sì, un giorno no, sempre qua sul canale. Oppure anche magari più giorni, adesso vediamo come mi organizzo con le live, con i video e con tutto. Niente, ci vi chiamo in un prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.